L'assessore ai trasporti per la Regione Veneto, Elisa De Berti, rende noto che anche il Consiglio di Stato ha bucciato il ricorso intentato da Riva Italia contro infrastrutture venete e Trenitalia. Il giudizio del Consiglio di Stato giunge dopo la bucciatura da parte del TAR. A Riva Italia Rai, l'SRL, è stata la seconda classificata nella gara europea per l'affidamento da parte di infrastrutture venete del servizio di trasporto pubblico ferroviario delle linee Adria Mestre, Rovigo Chioggia e Rovigo Verona fino al 2032. Ricorda la De Berti che tale ricorso ha fatto perdere un anno di tempo ma ora si sta procedendo per velocizzare il nuovo servizio che sarà gestito da Trenitalia a partire dal prossimo 1 settembre. Infrastrutture venete proseguirà con l'elettrificazione della Adria Mestre, RFI con interventi di manutenzione e ammodernamento delle linee, Rovigo Chioggia e Rovigo Verona, con la progressiva chiusura dei passaggi a livello mentre si attendono i nuovi treni. De Berti sulla sua comunicazione afferma che nel giro di qualche anno anche chi percorre queste tratte potrà usufruire di un servizio ferroviario più moderno, efficiente e di qualità. Speriamo che i tempi siano più ridotti. Carne al fuoco specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Da lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menu carne al fuoco diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Grazie a tutti.